La Porta del Paradiso, è la Porta Est del Battistero di Firenze, quella principale situata davanti al Duomo di Santa Maria del Fiore. Realizzata dall'orefice e scultore Lorenzo Ghiverti tra il 1425 e il 1452, con un'importante collaborazione del figlio Vittore, rappresenta il suo capolavoro, nonché una delle opere più famose del Rinascimento fiorentino. Grazie a tutti.